Si rinnova l'accordo tra comune ed emergency. Il sindaco Luigi De Magistris con l'assessore al patrimonio Alessandra Clemente ha fatto visita questa mattina ai locali dell'ambulatorio di Punticelli che anche per i prossimi 5 anni saranno ospitati presso la struttura concessa e incomodato d'uso dall'amministrazione. Abbiamo voluto rafforzare e confermare la volontà di dedicare questi spazi importanti del comune di Napoli che si trovano a Punticelli a una sfida, quella della cura delle persone e soprattutto ad una lotta ma in questo momento così importante e doverosa al contrasto del contagio da pandemia, da coronavirus e a tutte quelle ulteriori fragilità che sempre e in questo momento ancora più forte si stanno acuendo se pensiamo alla salute di ognuna e di ognuno di noi. Insieme al sindaco Luigi De Magistris rinnovare la voglia e la presenza di emergency in questi spazi vuol dire dare continuità a un lavoro straordinario, silenzioso di un'organizzazione che si avvale di professionalità, che sanno incontrare le persone di questo quartiere e non solo e lo sanno fare all'insegno di un grande diritto, quello di garantire come Repubblica Italiana la salute a tutte e tutte le cittadine. Attivo dal 2015 l'ambulatorio emergency offre gratuitamente servizi di medicina di base e orientamento per facilitare l'accesso al sistema sanitario a chi ne ha bisogno. Ad oggi il centro ha erogato più di 31.000 prestazioni sanitarie e curato nel 2020 oltre 1.600 pazienti. Siamo contentissimi che il comune abbia deciso di proseguire con questa collaborazione che ormai va avanti da sei anni. L'attività che svolgiamo qui è un supporto socio-sanitario in generale, quindi attività di medicina di base, di pediatria, di sportello infermieristico, uno sportello d'ascolto e di supporto psicologico che ormai purtroppo sta venendo da tante persone e chiaramente l'attività di orientamento e inserimento all'interno del sistema sanitario grazie al lavoro dei mediatori culturali che si dedicano principalmente alla popolazione migrante.